Bene, adesso parliamo del contratto di trasporto, altro contratto che possiamo considerare insomma rientrante nella tipologia dei contratti comunque di prestazione d'opera, dove oggetto da prestazione però appunto è un obbligo che sorge a carico del vettore di trasportare delle cose o delle persone da un luogo a un altro. Quindi la disciplina del contratto di trasporto è contenuta nel capo ottavo del titolo terzo, quindi il contratto tipico. Il capo ottavo del titolo terzo, il contratto tipico del quarto libro dedicato all'obbligazione del codice civile, ci dice che innanzitutto riporta, è suddiviso in tre sezioni, la prima è dedicata, come spesso accade, alle disposizioni generali, poi abbiamo una sezione dedicata al trasporto di cose, cioè scusate, al trasporto di persone, la seconda sezione, e una sezione, la terza, dedicata al trasporto di cose. Quindi innanzitutto diciamo che è un contratto che pertanto è disciplinato appunto nel capo ottavo, che però risente anche della disciplina di eventuali leggi, ci lo dice anche l'articolo 1680 sui limiti di applicabilità delle norme, è una disciplina diciamo che può essere derogata o comunque integrata da altre disposizioni, ad esempio del codice dei trasporti marittimi e della navigazione rispetto appunto a trasporti marittimi o anche aerei, ma è integrata anche da leggi speciali emanate in materia comunque di trasporti postali o ferroviari. Quindi tenete presente appunto che è una disciplina generale che può essere derogata alla disciplina più particolare. Ciò non di meno, diciamo che appunto c'è una nozione di contratto di trasporto riportata nell'articolo 1678, è anche facile ricordare perché 1, poi 6, 7, 8, quindi nell'articolo 1678 riportata la nozione di contratto di trasporto ci dice che è il contratto di trasporto, che col contratto di trasporto il vettore si obbliga verso corrispettivo ad effettuare un trasporto di persone o di cose da un luogo o un altro, quindi a trasferire scusate persone o cose da un luogo o un altro. Quindi poi c'è un articolo sui pubblici servizi di linea che adesso tralasciamo perché diciamo che è una disciplina molto particolareggiata anche sul piano appunto dei rapporti tra le parti. Però quello che a noi occorre sapere così in via generale sul piano delle caratteristiche del contratto di trasporto è che chiaramente essendo un contratto è un negozio giuridico bilaterale che è un negozio prestazioni pertanto corrispettive, è un negozio diciamo comunque un contratto, è anche non solo un negozio bilaterale ma è anche un contratto bilaterale perché genera obbligazioni e carico di entrambe le parti. Questo carico chiaramente del vettore che deve effettuare il trasferimento di cose persone e a carico comunque del trasportato o del cosiddetto omittente che deve prestare corrispettivo. Però questo con riguardo alle discipline contenute nel capo Tau, in realtà il contratto di trasporto è un contratto, non abbiamo parlato ad esempio del contratto a titolo oneroso perché può anche essere a titolo gratuito e quindi esiste sia il trasporto appunto a titolo oneroso che quello a titolo gratuito. Chiaramente quello a titolo gratuito diciamo che non si, diciamo per analogia si possono applicare anche le regole del contratto di trasporto a titolo oneroso e infatti così è soprattutto in materia di responsabilità comunque del vettore rispetto a danni o vizi, danni o comunque avarie o perdite delle cose o delle persone trasportate. Pertanto cioè con riguardo chiaramente ai danni e alle avarie parliamo delle cose trasportate, con riguardo chiaramente, diciamo con riguardo ai danni parliamo delle persone trasportate, con riguardo ai vizi o alle avarie che possono essersi verificati anche ai danni e comunque delle cose. Comunque sia, in pratica diciamo il trasporto può essere sia trasporto di cose che di persone, però può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, quindi diciamo che la disciplina del capo ottavo disciplina specificamente il contratto di trasporto a titolo oneroso, infatti la nozione che riporta il contratto di trasporto è quella che fa riferimento a una prestazione corrispettiva dove da un lato abbiamo il vettore che trasporta le cose dalle persone dall'altro il mettente o il trasportato insomma che paga il corrispettivo. Però il contratto di trasporto può anche essere a titolo gratuito, in questo caso si applicano in via analogica le regole sul contratto di trasporto disciplinato nel capo ottavo, però questo soprattutto con riguardo alla responsabilità che sorge nei confronti del vettore. Per il resto diciamo che il contratto di trasporto a titolo gratuito può essere ad esempio quello, diciamo si distingue comunque dal trasporto di cortesia, quindi abbiamo un'ulteriore, in questo senso abbiamo un'ulteriore tipologia di contratto di trasporto che però assolutamente non viene, per il quale però assolutamente non si applica la disciplina del contratto di trasporto, quindi abbiamo il contratto di trasporto a titolo oneroso, disciplina di cui ha capo ottavo, il contratto di trasporto a titolo gratuito, eventuale riferimento alla disciplina del capo ottavo, soprattutto per quanto attiene le regole sulla responsabilità del vettore, rispetto a danni riportati alle persone o alle cose, come riguardo appunto a vizie varie che possono verificarsi nelle cose per effetto appunto del trasporto. E poi abbiamo il trasporto di cortesia che invece non viene per nulla soggettato alla disciplina, cioè non viene nemmeno considerato un contratto di trasporto, sostanzialmente possiamo considerarlo forse un'obbligazione naturale e pertanto non è un contratto per il quale è prevista riferimento alla disciplina di cui ha capo ottavo del titolo terzo. Quindi per capire, facciamo un esempio di ciascuna tipologia di queste situazioni, il contratto di trasporto a titolo oneroso, chiaramente quando si prende la metropolitana e si paga il biglietto, evidenza un caso di trasporto di persone a titolo oneroso, un caso di trasporto di cose a titolo oneroso può essere ad esempio appunto quando si acquista un divano e poi ce lo mandano, se va al mobilificio si acquista un divano e poi si fa il contratto di trasporto per mandarselo a casa, trasporto di cose a titolo oneroso. Oppure si può avere diciamo anche contratto di trasporto gratuito, ecco allora un contratto di trasporto di cose o persone a titolo gratuito può essere quello, ad esempio della grande azienda che ha bisogno di spostare i propri dipendenti da un luogo a un altro, per farlo pertanto effettua un trasporto cosiddetto a titolo gratuito perché i dipendenti non è che pagano, perché nell'interesse dell'azienda comunque essere trasferiti da un luogo a un altro perché magari devono andare a effettuare delle vendite. E però che cosa succede? Che comunque si ha riferimento per la disciplina del contratto di trasporto con riguardo alle regole della responsabilità del vettore, quindi se il vettore nel trasportare le persone dunque dipendenti causa dei danni chiaramente ai dipendenti, anche per effetti ad esempio di incidenti e cose varie, permane la responsabilità rispetto a quella che è già quella tipica del vettore nel caso del contratto di trasporto a titolo oneroso disciplinato da capo ottavo. Poi abbiamo invece i trasporti cortesie, ecco che nel trasporto, e qual è questa responsabilità? La responsabilità è che il vettore appunto risponde di ogni danno causato alla persona o comunque anche della perdita e dell'avaria di cose trasportate se non dimostra di avere preso tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il danno, anche in quel caso può venire meno responsabilità, però se non l'ha fatto risponde, quindi è sempre responsabile. E questo anche pertanto nel caso di trasporto a titolo gratuito. Viceversa è diversa la situazione del trasporto cosiddetto di cortesia che invece genera un'obbligazione solo naturale e sottopone il vettore, perché anziché ottenere un interesse, come anche nel caso di trasporto a titolo gratuito, ottiene solo il vantaggio di avere fatto un favore magari a una persona, sul piano personale, etico e così, in pratica questa, se vogliamo, può essere considerata magari non una liberalità, perché comunque non c'è, non c'è, diciamo non è una liberalità perché comunque non c'è, perché innanzitutto perché non è un'obbligazione, non sorge obbligazione, però non è una liberalità perché comunque non c'è un depauperamento delle risorse comunque del vettore che magari dà un passaggio a un autostoppista, però ecco il tipico esempio del trasporto di cortesia è il passaggio l'autostoppista, ecco in questo caso si fa un favore, non c'è depauperamento delle risorse, quindi non può essere considerata una liberalità, comunque a titolo gratuito come atto, se fosse un atto giuridico, ma non è considerato un atto giuridico e non è quindi sottoposto a disciplina del capo ottavo, è proprio un favore, è così che sul piano personale si effettua e la conseguenza però si ha anche, comunque se fosse un atto sarebbe più similabile a una liberalità che non appunto a un atto a prestazione corrispettiva, sarebbe comunque, ecco non sarebbe una liberalità, sarebbe a titolo gratuito, però come sappiamo negli atti a titolo gratuito diciamo si tende sempre a favorire, articolo 1371 se non sbaglio, la posizione comunque dell'obbligato, pertanto anche in questo caso pur non essendo, diciamo non muovendoci, diciamo pur non rilevandosi la giuridicità comunque dell'atto in ogni caso può sorgere, diciamo anche la responsabilità chiaramente viene meno e dunque non può essere fatta valere se non in casi gravi di dolo e dunque di assunzione di un atto illecito da parte comunque del vettore, quindi se il vettore trasporta da un passaggio in autostoppista e poi per sua volontà si butta giù da un dirupo, ecco in questo caso c'è anche appunto un tentato omicidio del passeggero se vogliamo, quindi comunque un atto illecito che comporta possibilità per il passeggero che comunque ha l'onere di dimostrare appunto questa situazione la possibilità di essere esercito eventualmente, anche in casi meno grave in cui il passeggero diciamo trasporta invece delle cose o il trasporto di cortesia riguarda diciamo delle cose, se appunto c'è del dolo, in pratica nei trasporti via terra la responsabilità diciamo nel trasporto di cortesia viene meno perché non è un atto a titolo oneroso, cioè non è un atto giuridico però è sempre prevista la responsabilità per dolo, mentre nel codice, riguarda il codice della navigazione, articolo cos'è, non so se è 414 o 141, comunque uno dei due, diciamo che prevede una responsabilità nel caso di navigazione, anche per il trasporto di cortesia è una responsabilità che si estende fino alla colpa grave, quindi non solo il dolo ma anche la colpa grave, cosa che si ritiene appunto non debba invece associarsi ai trasporti via terra. Oltre a ciò che cosa dire? Ah, le parti. Con riguardo alle parti invece possiamo notare che diciamo le parti come abbiamo detto sono il vettore che si assume l'obbligo di trasportare, diciamo di trasferire cose o persone da un luogo o n'altro, ma anche il mittente, quindi forse poi scusate un contratto di prestazione d'opera anche sopra il fatto che vedete la denominazione, l'analogia sulla denominazione tra committente e mittente, comunque mittente è appunto quello che commissiona il trasferimento di cose o persone al vettore e tuttavia ci può essere un terzo soggetto che è quello, quindi dicevo, oltre a mittente al vettore può giungersi anche un terzo soggetto che è invece il destinatario, ecco il destinatario è invece il soggetto che riceve la merce, quindi generalmente il destinatario può essere del mittente, il mittente commissiona ad esempio un trasporto di cose per riceverle e quindi racchiude in sé sia la figura del destinatario che del mittente. In altri casi invece il destinatario può essere un soggetto diverso, in questo caso il contratto assume lo schema tipico del contratto a favore del terzo e quando questo succede diciamo che i diritti del terzo scaturiscono dalla consegna della cosa, quindi dal momento della consegna della cosa o dallo scadere del termine per la consegna, quindi dallo scadere del termine il destinatario avrà diritto di rivolgersi al vettore per l'adempimento e quindi per ottenere appunto la consegna della cosa. A questo riguardo diciamo che esiste poi anche, lo vedremo quando studieremo anche il mandato, la spedizione, la spedizione sostanzialmente rientra sempre nella tipologia del contratto di trasporto, però è un contratto di trasporto che viene assunto sullo schema comunque del mandato dove appunto il mandante commissiona al mandatario il fatto di assumere appunto, diciamo, dove il mandatario assume l'obbligo di organizzare un trasporto in nome proprio però a favore del mandante, quindi diciamo che anche in questo caso, come avviene più o meno nella compravendita a distanza su internet ad esempio, che la spedizione viene effettuata al venditore però viene effettuata sulla base del mandato dell'acquirente, quindi l'acquirente sostanzialmente richiede la spedizione di un oggetto per il suo acquisto, quindi in pratica il venditore comunque effettua la spedizione per suo conto però a nome dell'acquirente, quindi il destinatario e l'acquirente, vedete in questo caso il mittente e il destinatario sono soggetti diversi e soprattutto appunto il destinatario se non riceve la merce può reclamare appunto l'adempimento sulla consegna e questo appunto è un caso che ci fa capire come in alcuni casi il mittente può essere il destinatario però se il mittente è diverso dalla figura del destinatario in pratica da un lato abbiamo la struttura tipica del contratto a favore del terzo, dall'altro abbiamo appunto che secondo questa struttura il terzo assume il diritto diciamo sulla cosa solo allo scadere del termine per il suo ricevimento o comunque dal momento dell'accettazione, cioè dal momento appunto del ricevimento. Poi diciamo che ecco con riguardo alle responsabilità pertanto il contratto di trasporto è un contratto che si effettua tra vettore e trasportato, il contratto invece di trasporto di cose è un contratto dove appunto la parte, quindi diciamo con riguardo ai soggetti, il vettore è sempre quello che trasporta cose e persone, mentre nel contratto di persone l'abbiamo trasportato, che viene appunto trasportato secondo quelle che sono le usuali tariffe e via dicendo, mentre nel contratto di trasporto di cose abbiamo il vettore, il mittente, mittente che generalmente è anche appunto il destinatario appunto delle cose, però in alcuni casi il mittente invece commissiona il contratto di trasporto di cose finché siano diciamo spedite ad altro soggetto, in questo caso il destinatario è un altro soggetto che riceve e assume il diritto appunto al momento del ricevimento o allo scadere del termine per la ricezione, però abbiamo diciamo anche un'altra cosa da chiarire che riguarda il corrispettivo, ecco nel contratto di trasporto, cioè ci sarebbero tante cose da dire, ad esempio poi anche la responsabilità appunto, abbiamo parlato di responsabilità del vettore, circa i danni, però esiste anche la responsabilità ad esempio del mittente, appunto quando il contratto sia a favore del terzo e quindi il destinatario sia altro soggetto che non è il mittente, il mittente commissiona il trasporto di cose, però quando consegna la merce ad esempio al vettore, la stessa deve essere imballata in una certa misura, chiaramente se il vettore l'accetta senza riserve si presura la responsabilità, diciamo che nel momento della consegna dal mittente al vettore delle cose da consegnare al destinatario, in pratica la responsabilità sui danni appunto si sposta dal mittente al vettore, però se il vettore accetta le cose non senza riserve, ma semplicemente le prende e le trasporta così come le ha ricevute dal mittente, diciamo che rimane sempre una certa responsabilità al mittente rispetto innanzitutto alla natura delle cose consegnate, secondo luogo chiaramente al modo con il quale sono state imballate, perciò se l'imballo non è idoneo rispetto alla cosa trasportata, se io ad esempio consegno in una scatola di cartone, tutta una collezione di Swarovski, di cristallo, nel viaggio si rompono, la responsabilità può essere del vettore che le ha mai imballate quando le ha consegnate, scusate, la responsabilità può essere del mittente che le ha mai imballate quando le ha consegnate al vettore, viceversa se il vettore le ha accettate senza riserve, la responsabilità si sposta esclusivamente sulla sua figura, se anziché accettarle senza riserve, diciamo le cose le hanno imballate bene, però il vettore durante il trasporto le ha trattate così male che si sono comunque rotte tutte, in pratica la responsabilità del vettore, perché il vettore assume responsabilità sui danni, appunto dicevamo, quella responsabilità sui danni, la perdita varia delle cose alla quale già avevamo accennato dal momento del ricevimento delle cose del mittente, sempre restando la responsabilità del mittente rispetto a come queste sono state imballate dal mittente, se l'imballo è appunto una responsabilità del mittente, ci sono alcune agenzie di trasporto che effettuano anche gli imballi e queste cose, comunque, come invece viene determinato il prezzo? Il prezzo viene determinato, poi comunque dipende molto, anche questo in via di regole generali, chiaramente poi dipende molto da come le parti si accordano, anche perché ci possono essere contratti che finiscono per spostare la responsabilità magari sul trasporto, su una parte o sull'altra o fanno ricadere appunto responsabilità sull'eventuale impossibilità spravvenuta, deperimento della merce o quello che è, anche per questo ci sono delle regole molto specifiche per cui se la merce è deperibile, se deperisce oltre un certo livello, allora il vettore è responsabile, se no no, se la merce deperisce rischia di essere deperita, magari il trasporto non è più possibile, c'è riferimento anche all'articolo 1515, il contratto di compraventa che consente comunque al vettore eventualmente di vendere la merce per conto del cliente e via dicendo, c'è tutta una serie di discipline molto particolarizzate che potete anche andare a leggervi con tutto il capottavo appunto, che però viene appunto derogata dentro a metà disciplina più specifiche, legislative più specifiche sul trasporto appunto ferroviario, postale o anche appunto direttamente derogata dal codice della navigazione marittima e aerea. Però, per tornare alla determinazione del prezzo, così concludiamo, appunto come viene determinata la tariffa appunto per il trasporto, viene chiaramente determinata in relazione e ai mezzi utilizzati e al tragitto compiuto, quindi maggiore sarà il tragitto, maggiore sarà il prezzo, più costoso sarà il trasporto ad esempio dell'aereo rispetto al treno, più costoso sarà il biglietto. Questo per quanto riguarda il trasporto di persone, però con riguardo il trasporto di cose si deve avere riguardo anche per la natura delle cose trasportate, ovvero anche per il loro peso, la loro dimensione, chiaramente più aumenta il peso, più aumenta la dimensione, chi ha effettuato anche un acquisto su internet avrà notato come le spese di spedizione aumentino notevolmente. Poi vabbè ci sarebbero tante altre cose da dire, però come caratteristiche così generiche appunto contro il trasporto, ricordatevi, il trasporto può essere titolo neroso, titolo gratuito, può essere di persone, di cose, può essere anche di cortesia, può essere, poi ricordate le regole sulla determinazione della tariffa, del prezzo, il fatto che comunque con riguardo i soggetti abbiamo un vettore, un mittente, ma anche talvolta un destinatario, in questo caso è strutturato come un contratto a favore del terzo, e poi ricordate le regole sulla responsabilità del vettore e l'eventuale responsabilità sull'imballo da parte del committente e che esiste anche comunque il contratto di spedizione, cioè non un contratto di spedizione, esiste la spedizione che è una particolare tipologia di mandato che obbliga appunto ad effettuare, per mandatare un contratto di trasporto in suo nome, però per conto del mittente, eh scusate, per conto, sì, sostanze per conto del mittente, però per conto del cosiddetto mandante. Quindi con questo concludiamo, e poi andate a leggere le discipline, questo è lo studio, magari vorrei fare.